Rav, vengo dalla città di Tumucco che è al sud del Cile e da 10 anni sono nella cabala e per queste cose della vita ho dovuto viaggiare a questo Tumucco e rimanere lì, però tutto il lavoro che abbiamo realizzato in Tumucco per la cabala non è risultato molto, è tutto lì come morto e la mia domanda è, devo andarmene da Tumucco verso un gruppo per la mia crescita o devo rimanere lì? Se non c'è nel luogo dove la persona vive un gruppo e lui è sicuro che in un altro luogo si c'è ed è sicuro che vuole avanzare alla correzione, allora deve cambiare luogo, deve traslocare. Io anche così ho traslocato e anche molte persone che rivelano il nostro gruppo passano a vivere a cerca di vicino di noi per partecipare nello studio. Devi andare a vivere in un luogo dove ci sia un gruppo che studia giornalmente.